YumiFood YumiFood è un impianto di umidificazione made in Italy Perfect Cool by HydroBase Group studiato appositamente per preservare la freschezza di alimenti quali frutta, verdura, pesce e carne YumiFood è un impianto che ha la funzione di prolungare la durata di frutta e verdura, pesce e carne prevenendo la loro disidratazione grazie all'azione dell'acqua filtrata e debatterizzata che viene irrorata sui banchi attraverso gli ugelli posti lungo una linea di acciaio o poliammide YumiFood allunga la durata di questi prodotti reidratandoli con un'azione che serve a ridurre la perdita di peso conservandone l'immagine di freschezza YumiFood ti permetterà di aumentare le vendite e ridurre le perdite di prodotto fino al 50% YumiFood è mediamente più economico degli altri sistemi in commercio assorbe solo 125 watt quando nebulizza e 12 watt in standby Si installa in breve tempo e ha una manutenzione ridottissima Utilizza un sistema di debatterizzazione integrato che garantisce l'igienicità dell'acqua mentre la maggior parte dei sistemi concorrenti ne è sprovvisto Allontana gli insetti volanti Il sistema antigoccia evita spiacevoli gocciolamenti sui prodotti YumiFood può essere inserito sia in banchi refrigerati che isole aperte Si può adattare facilmente in qualsiasi struttura Con YumiFood non solo ridurrai le perdite di prodotto ma aumenterai anche le vendite e i prodotti saranno più invitanti come se fossero stati appena messi sul banco